Ciao, sono Tiziano Zanotti e sono il creatore del Bass Lab, che è la prima scuola interamente dedicata al basso elettrico e contrabbasso in Italia. Ho una novità importantissima da comunicarti. Dopo anni di attesa siamo finalmente riusciti ad organizzare una clinic con un grandissimo musicista insegnante, uno dei più grandi bassisti di tutti i tempi che attualmente è in tourney in Italia. Ebbene sì, ho il piacere e l'onore di invitarti al Jeff Berlin Workshop, al Bass Lab, chiaramente di Bologna. Sarà il 24 aprile 2023. Sarà una giornata speciale, piena di idee, di consigli, utili per bassisti ma anche per chitarristi. Per tutte le informazioni e per prenotare il tuo posto scrivi a infochiocciolab.it. È l'unico workshop di Jeff Berlin per il Nord Italia, da non perdere assolutamente. Ti aspettiamo, ciao! Grazie a tutti!